Cominciamo questa quarta puntata del nostro corso sulle figure femminili nei poemi epici che abbiamo intitolato proprio le donne dimmi e le storie e gli amori e oggi parleremo di donne e di amore anzi. Bene, benvenuti a voi naturalmente, benvenuta alla professoressa Cecilia Nobili che è qua con noi per concludere questo ciclo. Bentornati a Maria Antonietta Centoducati e a Franco Ferrari. Abbiamo già detto l'argomento di oggi. Abbiamo incontrato nelle lezioni precedenti tante figure femminili molto diverse tra di loro, di personalità molto diverse. Quindi anche il tema dell'amore e il sentimento d'amore si manifesta in maniera diversa a seconda delle personalità e delle figure femminili che incontreremo. Da Nausicaa, la giovane Nausicaa, fino alla donna matura e potente che è Didone. Qua vediamo un'immagine. Facciamo pubblicità anche al teatro perché nei prossimi giorni, anzi sì, ad aprile, ci sarà proprio nella stagione d'opera il Didone e Denea di Parsel che chi non lo conoscesse veramente merita di essere ascoltato perché è un'opera straordinaria. C'è la parte finale della morte di Didone che fa venire veramente i brividi proprio ed emoziona tantissimo. Bene. Detto questo, non finiamo però qui il tema dei miti e il tema dei poemi epici perché domani, nel martedì che ci sarà di domani, con due antropologi, Elisabetta Moro e Marino Gnola, parleremo delle sirene proprio a partire, un mito intramontabile che a partire dal racconto omerico avrete tutti in mente Ulisse incatenato e legato all'albero della nave, si fa legare per non soccombere alle proposte, alle seduzioni delle sirene. Ecco, a partire da quel racconto l'incontro di domani attraverserà tutta la letteratura fino ai nostri giorni dai classici antichi, quindi Omero e Ovidio fino a Kafka, Joyce, ad Andersen che hanno parlato e sono ritornati sul mito delle sirene ovviamente rileggendolo a modo loro. Ecco, quindi sarà interessante, avremo di nuovo, sarà accompagnato dalle letture con Maria Antonietta Cento Ducati e Franco Ferrari e può essere anche quello un martedì interessante che si collega, che è una specie di quinta lezione proprio su questi temi. Due parole per la nostra ospite Cecilia Nobili che insegna lingua e letteratura greca all'Università di Bergamo dopo aver conseguito il dottorato in filologia, letteratura e tradizione classica all'Università di Milano e si è perfezionata anche al King's College di Londra. Tanti i suoi temi di ricerca, i suoi interessi, in particolare la poesia epica e lirica, la poesia arcaica, epica e lirica, il rapporto fra testo e immagine e l'intervisualità e recentemente ha pubblicato con Carocci proprio un libro su voci di donne nell'epica, personaggi e modelli poetici femminili nell'Odissea, quindi entriamo nel tema, nel vivo del tema di oggi. Quindi io vi lascio all'ascolto di questa lezione, vi invito domani a essere di nuovo presenti a questo incontro con i nostri due ospiti, Marino Gnola in particolare, credo sia conosciutissimo come giornalista antropologo e tiene una rubrica sui miti d'oggi, sul venerdì di Repubblica e ha pubblicato tantissimo in questo ambito, così come Elisabetta Moro che è compagna di interessi ma anche di vita, quindi benissimo. Vi lascio all'ascolto di oggi. Bene. Grazie. Grazie, si sente, sì. Grazie veramente per questo invito graditissimo, è un piacere essere qua, è un piacere essere qua con voi, soprattutto parlando di figure femminili nell'Odissea, nell'epica più in generale. Infatti vedremo oggi come il nostro percorso parta dall'Odissea, poi ci porta a esplorare il mondo di altri due poemi epici che sono le Ergonautiche e le Neide e poi ritorniamo all'Odissea. È l'ultimo incontro di questi cicli, quindi insomma ormai sapete quanto le figure femminili giochino un ruolo cruciale, soprattutto nell'Odissea, in questo poema, e parlando di amore oggi inevitabilmente quindi esploreremo queste figure diciamo da un punto di vista anche un po' diverso rispetto a quello che avete visto finora. L'amore nell'Odissea possiamo dire soprattutto che ha una funzione narrativa. In Omero noi non troviamo una definizione di amore universale, possiamo dire, in Omero non abbiamo una forma di amore potremmo dire univoca. D'altronde l'amore nel mondo antico è qualcosa di molto diverso anche rispetto alla sensibilità nostra, moderna, contemporanea, anche in funzione, in virtù dei ruoli che uomini e donne avevano all'interno della società che sono molto diversi da quelli che noi concepiamo. Quindi in un universo frastagliato come quello del sentimento, delle emozioni, una certezza che noi abbiamo è il fatto che nei poemi omerici e soprattutto nell'Odissea l'amore è una forza, una delle tante che condizionano l'agire, il destino degli eroi, in questo caso principalmente Odisseo. Quindi è un espediente narrativo potremmo dire, utilizzato dal poeta in tanti casi proprio e ha la funzione di muovere l'azione, questo proprio partendo dai personaggi femminili con cui Odisseo si incontra lungo il suo percorso, lungo la sua strada. L'Odissea è così il poema che meglio esprime la femminilità sotto ogni punto di vista. Infatti i personaggi femminili con cui Odisseo si incontra sono molto diversi da loro, così come sono molto diverse quindi le forme d'amore, diciamo, che Odisseo intrattiene con questi personaggi. Vedremo figure molto diverse tra loro come Nausicaa, Calipso, Circe, ecco ciascuna di queste ha un modo diverso di esprimere il proprio amore nei confronti di Odisseo e eventualmente di essere da lui ricambiato. In tutti i casi però possiamo dire che vengono utilizzati questi personaggi, come dicevo prima, come forza narrativa, come una delle tante forze, possiamo dire, insieme agli dèi, insieme al desiderio, insieme a altri tipi di sentimenti che hanno la funzione di indirizzare l'azione di Odisseo. Il primo dei personaggi con cui vorrei partire oggi è forse quello che meglio esprime la condizione più disincantata, più anche priva, diciamo, di sfaccettature, pura di amore, che è la figura di Nausicaa. Nausicaa, forse l'avete già incontrata in questo percorso, è una ragazza giovane, una ragazza proprio all'albore della sua giovinezza, poco più di un adolescente, che per la prima volta conosce l'amore. Conosce l'amore nella figura di Odisseo e questo amore, diciamo così, la fa fantasticare su un futuro possibile. Ecco lei che realmente spera di poter costruire un'esistenza insieme a questo straniero venuto da lontano, ecco lei la quale va incontro forse alla delusione più coccente nel momento in cui Odisseo decide di tornare a casa, ed ecco lei che proprio ci presenta l'immagine più fresca, diciamo, di un amore scevro da altri tipi di condizionamenti e da altri tipi di volontà o di velleità. Questa ragazza, infatti, fin dal primo esordio, dal momento in cui ci viene presentata, è associata dal poeta a un immaginario di tipo nuziale, potremmo dire. Il poeta gioca in questo canto, siamo nel sesto canto dell'Odissea, con le aspettative del pubblico. Infatti costruisce, diciamo così, con un sottile gioco di rimandi, di allusioni, una fantasia, diciamo, su un possibile amore tra Odisseo e Nausicaa, che in qualche modo va incontro, solletica, diciamo, l'immaginario del suo pubblico. Nausicaa è una ragazza giovane, Odisseo è uno straniero, un principe bello, potente, venuto da lontano, all'inizio, come sapete, quando si trova sbattuto, un naufrago sulla terra dei Feaci, è uno sconosciuto per Nausicaa, così come poi per tutti i suoi, gli altri Feaci. Piano piano si scopre naturalmente che è un principe, una figura importante. Ecco, nel folclore, nella tradizione popolare, storie in cui, storie d'amore, tra una giovane ragazza bella e un principe venuto da lontano, erano naturalmente all'ordine del giorno. E il poeta, possiamo dire anche in questo canto, adesso lo vedremo, gioca in qualche modo solleticando la fantasia e l'immaginario del suo pubblico e spingendolo a così concepire e a condividere in qualche modo il sogno di Nausicaa sul coronamento di questo amore. Il pubblico, quindi, fantastica, è solleticato in un certo senso, ma allo stesso tempo poi viene ricondotto invece sul piano della realtà, sul piano del mito, che condiziona naturalmente l'agire di Odissio. Odissio non è libero di comportarsi come vorrebbe, non è libero di fare tutto quello che vuole, è condizionato da un mito che lo voleva ritornare in patria da sua moglie, da Penelope a Itaca, e quindi non può coronare il sogno d'amore che in qualche modo l'esperienza nella regia dei Feacci gli suggerisce. Vi dicevo però, appunto, invece queste possibili nozze, questa unione tra questo straniero e questa ragazza, fin dall'inizio del canto, vengono in qualche modo solleticate dal poeta. Nausicaa si presenta a noi per la prima volta nel sesto canto addormentata e in sogno le compare una figura conosciuta, un'amica, che in realtà è niente meno che la dea Atena, la dea Atena che muove i fili dell'azione e utilizza anche la giovane e innocente Nausicaa come una pedina nelle sue mani. Odissio è lì su una spiaggia, naufrago, ha bisogno di aiuto e quindi Atena decide di usare Nausicaa per finalità, diciamo, egoistiche potremmo dire, per far sì che questa ragazza aiuti e funga da così intermediario tra appunto questa spiaggia del Zolata su cui Odissio è sbattuto e la reggia dei Feaci in cui poi dovrà essere accolto. Queste immagini di divinità che utilizzano gli uomini e le donne a loro piacimento, suscitando in loro dei sentimenti funzionali a un certo tipo di azione, è qualcosa che caratterizza i poemi omerici, ma li troveremo poi anche nella tragedia, insomma divinità spesso capricciose che non esitano a usare gli uomini e le donne a propri fini. In questo caso quindi vediamo fin dall'inizio Nausicaa in sogno dove le compare questa figura amica, anzi Atena sotto le spoglie di figura amica, che le suggerisce niente meno che il matrimonio, che le sue nozze sono vicine e quindi si deve affrettare a recarsi sulla spiaggia dove proprio quella spiaggia dove Odissio si trova naufrago per lavare le vesti, per preparare le proprie nozze. E quindi vediamo fin dall'inizio del canto questa immagine di questo matrimonio che in qualche modo inizia ad alleggiare e a insinuarsi, se non altro, nella mente e nelle aspettative di Nausicaa. E quindi lascerei adesso la parola alla bravissima attrice di oggi e vediamo questa Nausicaa addormentata, il suo sogno. Al suo palazzo andò la dea Atena, occhio azzurro, a preparare il ritorno per Odisseo, magnanimo, e mosse verso la stanza ornata in cui una fanciulla dormiva. Alle immortali, simile per aspetto e bellezza, Nausicaa, la figlia del magnanime Alcino, e vicino due ancelle che dalle cariti avevano bellezza, di qua e di là dagli stipiti le porte splendenti erano chiuse. Come un soffio di vento balzò al letto della fanciulla, le stette sopra la testa e le disse parola, sembrando la figlia di Di Mante, nocchiero famoso, che l'era coetanea e molto cara al cuore. Quella sembrando, parlò Atena, occhio azzurro, Nausicaa, così trascurata t'ha fatto la madre, le vesti vivaci son là in abbandono e a te le nozze s'appressano. Quando bisogna che belle tu stessa ne vesta e ne offra a quelli che devon condurti. Per queste cose corre tra gli uomini fama gloriosa, godono il padre e la madre sovrana. Su, andiamo a lavare appena spunta l'aurora. Anch'io verrò ad aiutarti perché tu l'abbia pronta al più presto. Non per molto sarai vergine ancora. Già ti domandano qui nel paese i migliori di tutti i feaci, dove tu pure hai stirpe. Ma tu sollecita il padre glorioso avanti l'aurora e preparati le mule e il carro che ti trasporti cinture e pepli e mantelli vivaci. E anche per te così è molto meglio che andare a piedi. Sono molto lontani dalla città i lavatoi. Ecco, quindi questa immagine di questa ragazza che si sveglia dopo questo sogno è citata da questa prospettiva di queste nozze imminenti che il sogno le ha istillato. C'è quest'altra scena delicata in cui la ragazza va dal padre a chiedere il carro ma non gli rivela per pudore, arrossisce, non gli rivela le reali ragioni, motivazioni per le quali vuole andare a lavare questi panni. Si vergogna. Il padre però capisce, quindi anche lì c'è questo gioco di sguardi bellissimo tra il padre e la ragazza, il padre che sorridendo quindi capisce e acconsente. Quindi a Nausicaa le amiche preparano un picnic, possiamo dire, per la giornata, raccogliono le vesti e vanno su questa spiaggia a lavare i panni. Spiaggia dove appunto avviene l'incontro che Atena ha con così tanta accortezza preparato con Odissio che lì giace spiaggiato e naufrago. A questo punto le lascio la parola per appunto avvicinarci intanto a questo incontro. E quando giunsero alla corrente del fiume, bellissima, dove erano i lavatoi perenni, molt'acqua bella sgorgava, da lavare anche vesti assai sporche, allora le mule sciolsero dal carro staccandole e lungo il fiume vorticoso le spinsero a brucar dolce gramigna. E loro dal carro le vesti sulle braccia prendevano e le portavano nell'acqua bruna e calpestavano velocemente nei botri sfidandosi a gara. Lavate che le ebbero, portato via tutto il sudicio, in fila le stesero lungo la riva del mare, laddove più la ghiaia sul lido il mare lavava. Poi, lavate anche loro e unte con olio lucente, presero il pasto sulle rive del fiume e aspettavano che al raggio del sole le vesti asciugassero. Quando furon sazie di cibo, ella e le ancelle giocarono a palla, gettando via i veli del capo, e fra loro Nausicaa, braccia bianche, il canto intonava. Come va per i monti Artemide, urlatrice sul taigeto e celso o su per l'irimanto, godendo di rapide cerve o cinghiali, con lei le ninfe, le figlie di Zeus e Gioco, abitatrici dei campi, scherzano, gode in cuore le to. Lei, più alto di tutte, leva il capo e la fronte e si distingue assai bene, eppure tutte sono belle. Così, tra le ancelle, si distingueva la giovane vergine. Grazie. Ecco, anche qua, in questi versi che abbiamo visto, il poeta solletica in qualche modo l'immaginario del suo pubblico, perché le ragazze hanno lavato le vesti, le hanno stese ad asciugare, e poi a quel punto fanno il loro picnic, mangiano, e si mettono a giocare a palla. Ora, questo momento in cui queste ragazze si mettono a giocare tutte insieme, una di loro canta, costituisce, diciamo, un'immagine ben nota al pubblico che ben conosceva tanti altri miti. Vi ricordo che siamo in una società orale in cui i miti, le saghe, qualunque tipo di storia, diciamo, veniva divulgata in forma orale, in poemi più o meno estesi, in cui quindi le storie erano per lo più note, circolavano, il concetto di suspense è qualcosa, diciamo, di estraneo a una cultura orale in cui i miti sono già noti. Ecco, questa immagine di ragazze che giocano così, in maniera apparentemente spensierata, in un luogo aperto, il luogo aperto è per sua natura, diciamo, un luogo estraneo alla dimensione femminile, le donne vivono per lo più in casa, le donne greche, quindi la percezione di essere in un luogo aperto costituisce già di per sé un allontanamento, diciamo, rispetto a quella che è un'usanza e soprattutto una minaccia, perché miti di questo genere in cui gruppi di ragazze che cantano, che danzano insieme, vengono improvvisamente aggredite da, in genere, una figura maschile di un aggressore che ne prende, ne rapisce una, le fa violenza, era qualcosa di assai comune nella percezione che il pubblico aveva del mito antico. Un esempio tra tutti è il mito celebre di Persephone che ci viene narrato ad esempio nell'innumerico a due metra. Ecco, la situazione iniziale è una situazione come questa, un gruppo di ragazze in un prato che gioca, che danza insieme, una di loro è più bella delle altre, come qua si dice che Nausicaa superava tutte quante le altre per bellezza, per statura, per abilità nel canto, ecco, e all'improvviso arriva una figura minacciosa, un aggressore, nel caso di Persephone è Ade, e quindi che la rapisce, la porta con sé, la vuol fare sua moglie, ecco quindi un episodio di aggressione, ce ne sono molti altri analoghi nel mito. Quindi nel momento in cui il poeta anche qua inserisce questa scena, sta in qualche modo giocando con la suspense del pubblico che si chiede cosa succederà adesso a queste ragazze che giocano lì all'aperto, certo è sempre un po' pericoloso, sono lì in difese, cosa potrà mai capitare? Ed ecco che subito dopo il poeta in qualche modo continua ad alimentare questa suspense nel momento in cui ci presenta Odisseo. Odisseo è lì sdraiato a poca distanza, si sveglia nel momento in cui sente un grido delle ragazze e adesso lo sentiremo viene descritto anche in questo caso subito con una similitudine minacciosa come un leone che si accinge a così lanciarsi su una mandria di vacche o di un branco di cerve selvagge ecco Odisseo che si avvicina a queste ragazze viene paragonato a questa immagine minacciosa quindi anche qua vediamo in qualche modo il poeta che alimenta questo immaginario che sta costruendo fino ad ora giocando con la suspense se non che in realtà fin dalle sue prime parole Odisseo rassicura queste ragazze queste ragazze che sono naturalmente spaventate Odisseo peraltro è nudo è sbattuto sulla spiaggia dopo la tempesta è nudo quindi è nella condizione diciamo apparentemente più minacciosa possibile ma Odisseo con le sue parole rassicura immediatamente Nausicaa e le ragazze e adesso sentiamo insomma anche le parole di Odisseo e vediamo in che modo diciamo anche le parole di Odisseo proseguono su quella linea diciamo di aspettative matrimoniali nuziali che il poeta sta in qualche modo ricamando e mosse come leone nutrito sui monti sicuro della sua forza che va tra il vento e la pioggia i suoi occhi son fuoco tra vacche si getta tra pecore tra cerve selvagge e il ventre lo spinge in cerca di greggi a entrare anche in ben chiuso recinto così Odisseo tra le fanciulle bei riccioli stava per mescolarsi nudo perché aveva bisogno pauroso parve a quelle orrido di salsedine fuggirono qua e là per le lingue di spiaggia sola la figlia di Alcino restò perché Atena le infuse coraggio nel cuore e il tremore delle membra le tolse dritta stette aspettandolo e fu in dubbio Odisseo se le ginocchia afferrandole pregar la fanciulla a occhi belli o con parole di miele fermo così da lontano pregarla che la città gli insegnasse e gli desse una veste così pensando gli parve cosa migliore pregar di lontano con parole di miele che a toccarle i ginocchi non si sdegnasse in cuore la vergine subito dolce accorta parola parlò io mi tinchino signora sei dea sempre il cuore si intenerisce loro di gioia in grazia di te quando contemplano un tal boccio muovere a danza ma soprattutto beatissimo in cuore senza confronto chi soverchiando coi doni ti porterà a casa sua mai cosa simile ho veduto con gli occhi né uomo né donna e riverenza guardarti mi vince indelo una volta così presso Lara d'Apollo vidi levarsi un fusto nuovo di palma sì giunsi anche là e mi seguiva innumerevole esercito via in cui m'era destino aver triste pene così ammirandolo fui vinto dal fascino a lungo perché mai crebbe tale pianta da terra come te donna ammiro e sono incantato e ho paura tremenda ad abbracciarti i ginocchi ma duro strazio ma ancora ieri scampai dopo venti giornate dal livido mare fin qui l'onda sempre mi ha spinto e le procelle rapaci dall'isola ogigia e qui mi ha gettato ora un dio certo perché soffra ancora dolori non credo che finiranno ma molti ancora vorranno darmene inumi ma tu signora abbi pietà dopo molto soffrire a te per prima mi prostro nessuno conosco degli altri uomini che hanno questa città e questa terra la rocca insegnami e dammi un cencio da mettermi addosso se avevi un cencio da avvolgere i panni venendo a te tanti doni facciano i numi quanti in cuore desideri marito casa ti diano e la concordia gloriosa accompagna niente è più bello più prezioso di questo quando con un'anima sola dirigono la casa all'uomo e la donna molta rabbia ai maligni ma per gli amici è gioia e loro ha fama splendida grazie ecco quindi abbiamo visto dove appunto come Odisseo diciamo dopo questa immagine minacciosa del leone che si avvicina con sospetto a questo branco di ragazze appunto come fossero delle cerve in realtà dimostra subito grande delicatezza nei confronti di questa ragazza le altre fuggono l'unica che rimane trattenuta sempre da Atena è Nausicaa che non solo era quindi più alta più bella delle altre ma evidentemente anche più coraggiosa l'unica che si sente in grado di fronteggiare Odisseo e Odisseo dimostra fin da subito grande delicatezza nel momento in cui è in dubbio su come comportarsi con lei per rivolgerle la supplica la tipica posizione del supplice nel mondo antico come conosciamo anche dall'iconografia ad esempio era quella appunto di sdraiarsi anzi inginocchiarsi abbracciando le ginocchia della persona che si voleva pregare spesso toccando anche il mento della persona che si voleva pregare e rivolgendo quindi la supplica ecco Odisseo si rende conto che nella condizione in cui è peraltro nudo davanti a una ragazza giovane come questa forse non è il caso di avere questo contatto fisico così ravvicinato e quindi fa una supplica diciamo irrituale per certi aspetti perché si tiene a distanza però già si nota insomma così quanto tatto Odisseo abbia nei suoi confronti e come si relazioni con lei in maniera diversa rispetto ad altre donne che ha incontrato sul suo percorso decisamente più esperte più smalizziate le vedremo quando arriveremo a parlare di Calipso e di Circe Nausicaa è diversa appunto è una ragazzina niente di più e Odisseo si rende conto quindi che deve adottare con lei un tono e così in qualche modo delle accortezze diciamo che con altre donne normalmente non ha la prima cosa che deve fare però Odisseo è pregarla naturalmente ha una necessità impellente è una richiesta di aiuto e quindi ha bisogno di assicurarsi l'aiuto di Nausicaa e quindi esordisce con questa captazio benevolenzie che abbiamo sentito dalle sue parole in cui naturalmente deve elogiare questa ragazza diciamo così e farsela amica per ottenere da lei quello che vuole in questo caso quello di cui lui ha bisogno è delle vesti da indossare ospitalità accoglienza tutto quello che poi i feaci gli daranno per farlo però imbastisce questo discorso che magistralmente abbiamo appena sentito in cui così diciamo questo elogio per questa che lui fa a questa ragazza prende anche in questo caso così i tratti di un elogio di tipo nuziale solleticando come vi dicevo ancora prima quell'immaginario diciamo così matrimoniale che il poeta fin dall'inizio di questo canto ha iniziato a delineare le parole che dice quando dice quella formula proprio tre volte beatri il padre la madre sovrana tre volte beati i fratelli perché sempre il cuore si intenerisce loro di gioia grazie a te quindi quando ti vedono ecco questa formula è una formula tipica che noi troviamo ad esempio nei canti nuziali quei canti appunto che dovevano elogiare gli sposi in ecosizione del matrimonio tre volte beato tre volte beato e poi infatti Odisseo dice anche il più beato di tutti però sarà colui che ti prenderà sua sposa anche in questo caso quindi adottando quel tipico gergo del canto nuziale che comunemente appunto si intonava per elogiare lo sposo e la sposa la sua così esaltazione di Nausicaa continua paragonandola per la sua bellezza alla cosa più strabiliante che Odisseo dice di aver mai visto nella sua vita che è questa palma che si erge a Delo questa palma bellissima snella flessuosa che sorge in questo santuario e dove si diceva il santuario di Delo era uno dei più grandi santuari dedicati ad Apollo e Artemide e questa palma era la palma sacra perché si diceva che lì la loro madre e la tona si fosse appoggiata quando aveva partorito i due gemelli e ancora in questo santuario si venerava questa palma ecco questa palma proprio per la sua quanto è slanciata e quanto si erge anche maestosa di sopra degli altri edifici ecco viene qui paragonata da Odisseo a Nausicaa con l'intenzione quindi di farle appunto un elogio così fuori dal comune e quindi a questo punto diciamo dopo questo articolato elogio Odisseo arriva con la sua vera e propria richiesta che è quella appunto di accoglienza ospitalità abbigliamento vesti da indossare ma anche qui il suo discorso nuovamente però si conclude con un'allusione al matrimonio infatti le sue ultime parole per concludere con una quella che si chiama ring composition diciamo un ritorno all'inizio riprendendo i temi iniziali del suo discorso lui termina con un augurio anche in questo caso un augurio di felicità un augurio di felicità nuziale dice io ti auguro che gli dèi ti facciano tanti doni ma soprattutto che ti diano marito e casa e la concorda dia gloriosa accompagna e termina quindi con questo elogio della vita matrimoniale in cui dice che la cosa più bella è quando un uomo e una donna insieme governano in maniera armonica una casa e quindi questo è l'augurio che Odisseo con tutto il suo cuore si sente di fare a questa ragazza se non che queste parole colpiscono profondamente Nausicaa che fin dal mattino si è svegliata diciamo con questo tarlo di queste nozze che si avvicinano è naturalmente sentirsi fare questo discorso da questo straniero non fanno altro che alimentare in lei quelle speranze che la dea Atena le ha in qualche modo istillato fin dal sogno ed è così che appunto dopo che Odisseo termina il suo discorso Nausicaa naturalmente acconsente a concedergli appunto quello che lui ha richiesto vesti nel frattempo tra l'altro Odisseo viene rivestito ma viene anche abbellito da Atena che lo unge e gli fa avere un aspetto così radioso presentabile ecco nel frattempo però Atena ha raggiunto il suo obiettivo e Nausicaa si è innamorata di questo straniero come confessa alle sue stesse compagne alle sue stesse amiche quindi dopo il discorso di Odisseo lei matura questo sentimento nel suo cuore e lo confessa appunto alle sue compagne come adesso sentiamo andò allora a sedersi in disparte sulla riva del mare splendente di grazia e bellezza ne stupì la fanciulla subito disse alle ancelle bei riccioli sentitemi ancelle braccio bianco che dica una cosa non senza i nomi tutti che stanno in Olimpo quest'uomo è venuto tra i feaci divini prima mi era sembrato che fosse brutto davvero e ora somiglia ai nomi che il cielo ampio possiedono o se un uomo così potesse chiamarsi mio sposo abitando fra noi e gli piacesse restare su date all'ospite ancelle da mangiare e da bere ecco Nausicaa è innamorata quindi si è innamorata di Odisseo e da qui in poi appunto vediamo questo suo amore che in qualche modo si alimenta anche qua in un'altra scena molto bella insomma quando poi Odisseo arriverà al palazzo Nausicaa naturalmente non confessa non rivela nulla al padre ma quello stesso padre che già al mattino aveva capito le intenzioni della figlia anche in questo caso capisce che la figlia prova qualcosa per questo straniero ed è Alcino stesso a un certo punto a proporre a Odisseo a offrirgli la mano della figlia se non che Odisseo rifiuta la sua strada è un'altra il suo destino è un altro lui già nel momento in cui è partito da Ogigia abbandonando Calipso abbandonando quell'offerta irrinunciabile potremmo dire che egli ha fatto Calipso che è l'offerta della immortalità ecco ormai Odisseo deve perseguire quelle che sono le sue intenzioni il suo destino che è quello di tornare a Itaca quindi rifiuta l'offerta e quindi in qualche modo diciamo poi avverrà il commiato da Nausicaa a Tenero in cui in qualche modo diciamo Odisseo le augura e continua ad augurarle la felicità che merita e Nausicaa naturalmente comprende che appunto il destino di Odisseo è un altro e quindi non è lì per lei per coronare quel sogno d'amore ed ecco però che in qualche modo diciamo questo questo canto dell'Odissea e soprattutto questa figura di Nausicaa ha in qualche modo così coniato un certo tipo di immagine femminile che è appunto l'immagine della ragazza giovane che non ha mai conosciuto l'amore e che lo scopre per la prima volta quindi con tutte le gioie e i dolori che il sentimento d'amore porta con sé e questa questa immagine naturalmente attraversa la letturatura greca ne troviamo altri di figure femminili in qualche modo assimilabili a Nausicaa e per rimanere sempre nel mondo della poesia epica arriviamo adesso a un'altra ragazza un'altra ragazzina giovane sempre poco più che un adolescente che come Nausicaa scopre per la prima volta l'amore anche in questo caso per volontà diciamo di dei di una dea sempre afrodite che su di lei trama per raggiungere obiettivi siamo in un altro mondo è il mondo ellenistico delle argonautiche di Apollonio Rodio un poema epico del terzo secolo avanti Cristo quindi siamo ben lontani dal mondo orale che in qualche modo presuppone la poesia di Omero è un poema epico quindi di tipo molto diverso pensato per un pubblico di lettori siamo nella dimensione ellenistica che appunto ha quasi ormai interamente abbandonato la dimensione orale dell'epica arcaica ma questo poema che tratta del mito degli argonauti che vanno in colchide per recuperare il vello d'oro è un poema che è costruito in maniera erudita da un poeta come Apollonio Rodio un poeta colto come Apollonio Rodio utilizzando il modello omerico quindi Apollonio vuole costruire diciamo un epos per la sua epoca che va incontro a ideali aspettative diverse un personaggio centrale di tutto il poeta è la figura di Medea figura di Medea che naturalmente aveva alle sue spalle già una lunga e fortunata tradizione quella della tragedia prima di tutto ma che qua Apollonio Rodio decide di immortalare in una fase ben precedente a quella che si conosceva della tragedia la figura di Medea aveva a sua volta insomma una tradizione anche epica molto più antica quindi esistevano saghe epiche sulle avventure degli argonauti in cui compariva anche Medea ma questa Medea che mette in scena possiamo dire Apollonio Rodio è una Medea che da un lato si ispira al modello omerico di Nausicaa adesso andremo a vedere come dall'altro naturalmente deve in qualche modo andare incontro alle aspettative del suo pubblico che sapevano che questa stessa Medea poi sarebbe diventata la Medea di Euripide insomma la Medea infanticida che la tradizione aveva ormai consolidato qua vi dicevo appunto Medea la vediamo come questa giovane ragazza anche lei figlia del re di Colchide che anche lei si trova diciamo a compiere una funzione da intermediario perché deve aiutare gli argonauti e il loro capo Giasone a compiere le imprese per le quali sono andati in Colchide ossia recuperare il vello d'oro che è custodito gelosamente dal re il padre di Medea e Eta che non vuole concederlo a questi stranieri a meno che non compiano delle imprese impossibili uccidere draghi ispiranti fuoco seminare una messe diciamo di guerrieri che poi devono sconfiggere quindi una serie di imprese apparentemente impossibili ma anche qua la dea Afrodite decide di utilizzare Medea come uno strumento una pedina nelle sue mani perché Medea è una maga Medea conosce pozioni magiche filtri e quindi se lo vuole è l'unica che può aiutare Giasone a compiere queste imprese altrimenti impossibili che gli sono state commissionate per far sì che Medea aiuti questo straniero bisogna fare in modo che però si innamori di lui e quindi Afrodite manda il giovane Eros a scagliare le sue frecce contro Medea in modo tale che si innamori di questo straniero quindi anche Medea è una vittima possiamo dire della volontà di Afrodite e vediamo di nuovo l'amore utilizzato come espediente narrativo come arma in questo caso vera e propria perché quella che Giasone deve intraprendere è una vera e propria guerra e quindi ha bisogno di armi potenti che lo aiutino e l'arma più potente di tutte che Afrodite gli fornisce è proprio l'amore di questa ragazza Medea e adesso appunto vediamo queste frecce d'amore che vengono scagliate contro Medea questa ragazza anche lei ingenua che non ha mai conosciuto l'amore e che assiste con stupore alla nascita di questo nuovo sentimento nel suo animo intanto giunse Eros per l'aria chiara invisibile violento come si scaglia sulle giovani vacche l'assillo che i mandriani usano chiamare etafano rapidamente nel vestibolo accanto allo stipite tese il suo arco e prese una freccia intatta a portatrice di pene poi senza farsi vedere varcò la soglia con passo veloce e ammiccando e facendosi piccolo scivolò ai piedi di Giasone adattò la cocca in mezzo alla corda tese l'arco e conambo le braccia e scagliò il dardo contro Medea un muto stupore le prese l'anima lui corse fuori ridendo dall'altissima sala ma la freccia ardeva profonda nel cuore della fanciulla come una fiamma e lei sempre gettava il lampo degli occhi in fronte al figlio di Esone e il cuore pur saggio le usciva per l'affanno dal petto non ricordava nient'altro e consumava il suo animo nel dolore dolcissimo come una filatrice che vive lavorando la lana getta fuscelli sopra il tizone ardente e nella notte brilla la luce sotto il suo tetto si è alzata prestissimo la fiamma si leva immensa dal piccolo legno e riduce in cenere tutti i fuscelli così a questo modo il terribile Eros insinuatosi dentro il cuore ardeva in segreto e smarrita la mente le morbide guance diventavano pallide e rosse ecco vi dicevo che Apollonio Rodio poeta erudito colto qua nel delineare la sua medea da un lato ha sicuramente presente l'immagine di Nausicaa questa appunto immagine di fanciulla ingenua che per la prima volta conosce l'amore ha presente lo vedremo adesso nei prossimi passi anche la medea tragica con i suoi monologhi i suoi dibattiti interiori ma soprattutto ha presente anche l'arte di quella che nella tradizione antica era la più grande poetessa d'amore che era Saffo Saffo con la sua sintomatologia d'amore se avete presente il celebre carme della gelosia in cui si descrive il sentimento di gelosia misto ad amore che Saffo prova guardando una ragazza che ama ecco è una sintomatologia che riguarda il sentimento ma riguarda anche il fisico il corpo quindi un tremore Saffo dice di impallidire che si sente svenire le tremano le ginocchia ecco lo vediamo anche qua nella descrizione di questa passione che inizia a ardere prima piano piano poi sempre di più nel cuore di Medea ecco si accompagna anche a dei risvolti fisici quindi queste guance che si alternano rossore pallore anche qua il senso di affanno nel petto il senso di svenimento e continueremo a vederlo nella descrizione appunto di questa sintomatologia di amore che si sviluppa nell'animo di Medea un animo quindi che comincia diciamo a consumarsi perché naturalmente questo è un amore che lei percepisce subito come illecito Medea comprende che l'amore per questo straniero che in questo momento è anche un nemico comporta per lei il fatto di in qualche modo mettersi contro suo padre la sua famiglia lei da un lato è preoccupata per la sorte di questo straniero che andrà incontro a delle prove terribili che lei vuole aiutare ma sa benissimo che così facendo va contro quello che è la volontà di suo padre della sua famiglia quindi sta facendo un gesto di ribellione in qualche modo quindi questo è un amore che diciamo nell'animo di Medea da un lato di vampa dall'altro però la terrorizza anche perché sa che è un amore proibito e vediamo qua però adesso ancora una volta un'immagine di un sogno il sogno di Medea che è un sogno diciamo decisamente più angosciante rispetto a quello di Nausica tanta era la delicatezza con cui appunto si immaginava questa Nausica e il suo desiderio di nozze qua vediamo invece come il sogno di Medea sia un sogno psicologicamente tormentato possiamo dire dilaniato tra questi opposti desideri quindi da un lato questo desiderio di amore irrefrenabile dall'altro la consapevolezza che questo amore coltivare questo amore significa per lei così andare contro la sua famiglia e in qualche modo ribellarsi ad essa un sonno profondo riposava dai suoi dolori Medea disesa sul letto ma l'atturbavano sogni terribili se ingannatori a chi è in preda all'angoscia le sembrava che lo straniero affrontasse la prova non per il desiderio di portare via il vello d'oro che non per questo fosse venuto alla reggia di Eta ma per portarla nella sua casa come legittima sposa e vedeva se stessa lottare coi tori e sconfiggerli agevolmente ma i suoi genitori mancavano alla promessa dicendo che non a lei avevano dato l'incarico di aggiogare i tori e tra gli stranieri e suo padre sorgeva una lite insanabile e entrambe le parti si rimettevano a lei sarebbe stato ciò che sceglieva il suo cuore lei sceglieva subito lasciava i suoi genitori per lo straniero loro li prese un immenso dolore diedero un grido di ira furente sparve il sonno a quel grido e balzò su tremando per la paura e guardò intorno i muri della sua stanza a stento riprese fiato nel petto e gridò ma infelice quale terrore mi ha dato il sogno angoscioso temo che da questo viaggio sorga un enorme sciagura palpita per lo straniero il mio cuore là nella sua patria lontana sposi una donna greca io devo darmi pensiero della mia vita di vergine della casa dei miei genitori tuttavia voglio crearmi un cuore che sia pronto a tutto e non restare più sola ma tentare se mai mia sorella mi chiede aiuto in questo frangente temendo per i suoi figli sì questo potrebbe spegnere dentro il mio cuore la pena disse e si alzò dal letto e aprì di colpo la porta vestita della sola tunica e a piedi nudi voleva vedere calcio per subito e varcò la soglia del cortile ma poi lungo tempo restò nel vestibolo trattenuta dalla vergogna e si volse e tornò indietro e dalla sua camera di nuovo si gettò fuori e di nuovo rientrò inutilmente i piedi la portavano avanti e indietro quando avanzava la vergogna la teneva ferma là dentro trattenuta dalla vergogna la spingeva al desiderio possente per tre volte tentò e si fermò per tre volte alla quarta si sentì mancare e cadde prona sul letto ecco questa passione che consuma Medea e la tormenta abbiamo visto in che modo quindi nell'incertezza nel dubbio in qualche modo vi dicevo prefigura già quella eroina appassionale che in qualche modo diciamo accecata dall'amore per Giasone non è disposta a sentire ragioni che troveremo nella tragedia però qua diciamo l'obiettivo di Apollonio Rodio per quanto naturalmente inevitabilmente faccia delle allusioni mirate ad altri ad altre opere che il pubblico certamente conosceva però il suo obiettivo è appunto quello di così delineare la nascita di un sentimento di una passione nell'animo di chi quella passione non l'ha mai conosciuta e questa lezione diciamo in qualche modo viene assimilata dal grande poeta latino Virgilio nel momento in cui tratteggia l'immagine di un'altra donna innamorata un'altra donna innamorata perdutamente seppur con esiti funesti anche perché anche in questo caso l'amore è guidato è voluto è un sentimento che viene suscitato dagli dèi per finalità opportunistiche anche in questo caso Afrodite ha deciso che Didone deve essere una pedina nelle sue mani deve aiutare Enea fornendogli ospitalità durante il suo viaggio e quindi deve far innamorare Didone di Enea e lo fa anche in questo caso con lo stesso stratagemma che già utilizza Pollonio Rodio ossia usando il piccolo Eros Cupido come tramite in questo caso il piccolo Cupido che prende le sembianze del figlio di Enea Ascanio e nel momento in cui Enea con questo bambino e poi con tutti i suoi compagni si presenta anche in questo caso supplice a chiedere ospitalità a Didone questo bambino va in braccio si getta tra le braccia di Didone e Didone diciamo così comincia a innamorarsi di lui diciamo a provare affetto nei confronti di questo bambino e a innamorarsi di Enea anche in questo caso uno straniero bello se non che Didone è persona diversa da Nausicaa e da Medea è una donna matura è una donna che già ha conosciuto l'amore che ha già avuto un marito Sicheo è vedova ormai da molti anni e diciamo aveva in qualche modo messa l'anima in pace insomma non pensava che mai più avrebbe conosciuto questo sentimento tanto più che è una regina impegnata nel governo del suo regno dovendo fronteggiare anche insomma difficoltà di carattere politico e militare e mai quindi avrebbe pensato che di nuovo l'amore si sarebbe affacciato nel suo animo e qua quindi però vediamo come Virgilio utilizzi in qualche modo il modello creato è forgiato da Omero con Nausicaa per descrivere anche qua lo stupore di questo sentimento nuovo un sentimento che appunto lei credeva ormai sopito ma che rinasce nel suo cuore e quindi la riporta in qualche modo a una gioventù che credeva ormai lontana il contesto anche qua è un contesto analogo abbiamo anche qua queste scene di banchetti in cui appunto Enea deve così viene introdotto alla regina chiede ospitalità quindi per certi aspetti scene riconducibili a quella che abbiamo visto alla reggia dei Feaci e anche qua diciamo appunto vediamo questo amore nuovo che però è un amore anche in questo caso tormentato non nel caso di Medea non perché Didone pensi di fare qualcosa di sbagliato ma per il pudore due sentimenti che confliggono nell'animo di Didone sono da un lato l'amore e dall'altro il pudore ossia la fedeltà al ricordo del marito morto alla fedeltà appunto a una promessa che gli aveva fatto e che credeva ormai averla vincolata per sempre quindi la promessa appunto di fedeltà a lui e qua quindi vediamo appunto questo sentimento che deve in qualche modo farsi strada con questo pudor che Didone nel frattempo ha introiettato ma ma già la regina tormentata da un profondo affanno nutre una ferita nelle vene e un cieco fuoco la divora il grande valore dell'eroe la grande gloria della stirpe le ritornano in mente non dileguano impressi nel cuore il volto e le parole l'affanno non concede alle membra la placida quiete l'aurora seguente illuminava le terre con la luce febea e aveva allontanato dal cielo l'umida ombra quando già perturbata parla alla concorde sorella Anna sorella che sogni mi tengono sospesa e mi angosciano che ospite straordinario è entrato nel nostro palazzo quale mostrandosi in volto che forza nel cuore e nell'armi credo davvero che sia non è fede illusoria di stirpe divina il timore accusa gli animi ignobili quali fati lo hanno agitato che guerre sofferte narrava se non fosse decisione irremovibile e fissa nel cuore di non volermi usire a nessuno con vincolo coniugale dopo che il primo amore mi ingannò e mi illuse con la morte se non avessi in odio il talamo e le fiaccole nuziali forse per questo solo potrei soccombere al peccato Anna lo confesso dopo la morte del misero sposo Sicheo e la casa insanguinata da fraterna strage egli soltanto ha scosso i miei sensi e mi ha fatto vacillare l'animo riconosco i segni dell'antica fiamma ma voglio che prima la terra mi sapra in un abisso e il padre onnipotente mi spinga con il fulmine tra le ombre del pallido erebo e la notte profonda prima che pudore o sciolga le tue leggi quello che per primo mi unì a sé mi rapì l'amore egli lo abbia con sé e lo serbi nel sepolcro ecco Anna la confidente e la sorella ecco lei che invece rassicura di done anzi non soltanto la rassicura e la esorta diciamo a abbandonarsi a questo sentimento che è qualcosa di bello a cui non si deve opporsi ma soprattutto le suggerisce anche l'opportunità insomma di poter avere al suo fianco un uomo valoroso prestante un re che proviene da un principe che proviene da una terra lontana viste le varie difficoltà anche di carattere politico che di done sta affrontando proprio per il fatto di essere una donna da sola al comando di una città quindi una volta che Anna l'ha rassicurata diciamo sull'opportunità anche di questa unione a questo punto di done proprio si abbandona a questo sentimento e proprio ci si così si si compiace potremmo dire appunto di questo nuovo amore che finalmente ha riconquistato il suo animo prego arde l'infelice di done e vaga per tutta la città invasata qual è una cerva colpita da una freccia che un pastore inseguendola incauta trafisse con dardi da lontano nei boschi cretesi e le lasciò dentro l'alato ferro ignaro quella percorre in fuga le selve e le balze di tè ma non si distacca dal fianco l'asta mortale ora conduce Enea con sé attraverso le mura e mostra le ricchezze sidonie e la città preparata comincia a parlare e a metà del discorso s'arresta ora sul calare del sole desidera un nuovo convito e chiede folle di udire ancora una volta i travagli di troia e ancora una volta pende dalle labbra del narratore poi appena si congedano e la luna a sua volta oscurando si nasconde la luce e le stelle calanti concigliano il sonno si tormenta sola nel vuoto palazzo e giace sui tappeti abbandonati lui lontana lontano ascolta e vede o tiene in grembo a scanio presa dall'immagine del padre per cercare di ingannare così l'indicibile amore ecco quindi abbiamo visto insomma queste tre donne apparentemente così diverse soprattutto di donne così diversa dalle altre due ragazze eppure in qualche modo tutte così soggiogate da questo sentimento comune che però come abbiamo visto è un sentimento guidato evoluto dagli dèi per finalità narrative ma più in generali anche per finalità di carattere politico all'interno dell'economia di ciascuno dei poemi che abbiamo visto queste tre unioni o possibili unioni infatti non sono scevere da risvolti più di carattere politico possiamo dire in tutti i casi si tratta di principesse di stranieri di uomini venuti da lontano e quindi la loro unione diciamo ha anche un significato per quella che è la loro comunità ha dei risvolti significativi da questo punto di vista adesso però vorrei ritornare all'odissea invece con due figure completamente diverse per le quali l'amore ha un significato diverso perché è scevro diciamo da quelle implicazioni invece politiche che ha nel caso delle altre figure si tratta di due donne due dèi che vivono potremmo dire in una condizione di isolamento quindi che non hanno nessun rapporto con alcun tipo di comunità sono donne indipendenti diciamo molto diverse da quella che è l'immagine della donna donna greca sono donne che vivono da sole senza famiglie senza uomini al loro fianco non hanno bisogno di uomini anzi Circe rifugge dal contatto con gli uomini intesi anche più in generale come entità di sesso maschile quindi anche anche gli dèi sono donne che fanno della propria indipendenza diciamo il proprio vanto ma appunto sono figure di donne in qualche modo ai margini ai limiti secondo quella che è invece la concezione greca di quale è il ruolo della donna madre di famiglia moglie capostipite insomma se possibile di una progenie numerosa ecco queste donne rifuggono a quelli che sono invece i canoni di femminilità che il mondo antico appunto il mondo greco soprattutto attribuiva alle donne e come tali quindi sono delle figure minacciose anche in questi casi nella loro indipendenza nella loro autonomia nel non avere bisogno di uomini per sostentarsi in qualche modo costituiscono una minaccia un pericolo sia Calipso che Circe vengono definiti come delle idee pericolose quindi con le quali bisogna stare attenti e Odisseo vediamo nel rapportarsi con loro come infatti possiamo vedere lui che è sempre tanto accorto come stia proprio allerta a non fare un passo falso perché sa che diciamo un gesto sbagliato potrebbe essergli fatale Calipso e Circe ecco quindi dicevo vengono descritte in questa condizione di isolamento proprio perché escono dai canoni che normalmente la società greca attribuiva alle donne e in questo loro desiderio di in qualche modo di indipendenza però si scontrano anche loro con il sentimento dell'amore che è l'unico diciamo e soprattutto dell'amore nei confronti di Odisseo che turba in qualche modo questo loro desiderio di indipendenza loro che non si sono mai legate a nessuno per la prima volta si innamorano di quest'uomo loro che sono dei peraltro e si innamorano di un mortale che scardina potremmo dire le loro certezze e per la prima volta con lui con questo Odisseo loro vorrebbero condividere la propria vita soprattutto Calipso come ho accennato prima arriva al punto da offrirgli il dono dell'immortalità per averlo sempre accanto a sé però appunto queste donne così ai margini e così diverse da tutte le altre esprimono anche concetti e pensieri che non vediamo in nessun'altra figura femminile in particolare vediamo Calipso in questo passo del quinto canto dell'Odissea esprimere quelli che potrebbero essere degli ideali in qualche modo proto-femministi Calipso infatti è adirata perché gli dèi hanno stabilito dall'alto che dopo tanti anni che Odisseo è da lei finalmente è giunto il momento che lui prosegua per la sua strada e vada a Itaca e quindi hanno mandato Ermes a dire a Calipso che deve lasciarlo andare e anzi deve aiutarlo a mettersi in mare e a compiere il suo viaggio ma Calipso è infuriata non ci sta e diciamo considera questa decisione degli dèi come una prevaricazione maschile potremmo dire su di lei e più in generale sulle donne infatti accusa gli dèi quegli stessi dèi che hanno avventure con donne di ogni genere e che si sentono liberi di fare con le donne tutto ciò che vogliono ecco accusa quegli stessi dèi di adottare un comportamento iniquo nei suoi confronti perché invece alle donne non è concessa la stessa libertà decisionale e la stessa libertà sul proprio destino che gli uomini hanno maligni siete o dèi e invidiosi oltremodo voi che invidiate alle dèi di stendersi accanto ai mortali palesemente se una si trova un caro marito così quando l'aurora di Tarosate orione si scelse voi va diraste o dèi che vivete beati finché in Ortigia Artemide trono d'oro la casta con le sue miti frecce lo raggiunse e l'uccise così quando a Iasone Demetra belle trecce ubbidendo col suo cuore sunì d'amore e diletto in un magese terziato non ne fu a lungo ignaro Zeus che l'uccise col fulmine abbagliante così con me va dirate ora o dèi che mi sia accanto un mortale ma io lo salvai che era solo aggrappata alla chiglia perché l'agile nave col fulmine abbagliante Zeus gli aveva colpita infranta nel livido mare e tutti gli altri perirono i suoi forti compagni lui il vento e l'onda spingendo lo gettarono qui e io lo raccolsi lo nutri e promettevo e promettevo di farlo immortale e senza vecchiezza per sempre ma certo il volere di Zeus e Gioco non può un altro dio trascurare o far vano e dunque andrà se Zeus l'ordine immobbliga sul mare instancabile scorta non potrò dargliene certo non ho navi provviste di remi non ho compagni che lo trasportino sul dorso ampio del mare ma gli darò consigli con cuore amico non gli tacerò come tornerà illeso alla terra dei padri calipso quindi è adirata si sente vittima di un'ingiustizia un'ingiustizia che lei riconduce più in generale alla condizione femminile o se non altro una disparità diciamo tra uomini e donne ciò nonostante acconsente sa che di fronte alla volontà divina non ci si può opporre e quindi acconsente alla fine a malincuore con rabbia a far partire Odissio quindi da dea pericolosa che era e con la cui viene descritta all'inizio anche dalle parole di Odissio si trasforma in realtà in una figura benevola se non altro o se non altro che agevola il suo ritorno gli mette a disposizione una zattera e quindi grazie a questa Odissio riesce a mettersi in mare altrettanto benevola diventa quella nei confronti di Odissio quella figura altrettanto minacciosa che era Circe anche Circe esordisce potremmo dire nel peggiore dei modi perché appunto come sapete trasforma in maiali i compagni di Odisseo li trasforma in maiali proprio perché ha timore che questi stranieri questi uomini aggressori venuti da lontano possano in qualche modo turbare quella condizione di isolamento e di dipendenza che Circe sia lungo guadagnata ma di fronte a un solo di questi uomini anche le certezze di Circe vengono meno quell'uomo è Odisseo Odisseo che ha ricevuto da Hermes quest'erba magica che gli consente di essere immune dai sortilegi di Circe e Circe nel momento in cui vede che Odisseo non subisce gli effetti delle sue pozioni si arrende anche in questo caso e si nasce in lei questo nuovo sentimento che però è ben diverso dall'amore di Nausicaa di Medea che abbiamo visto Circe vi dicevo che fin dall'inizio è stata presentata come una donna indipendente che vive in un'isola lontana isolata da tutti ecco qua vediamo nel modo in cui si rapporta con Odisseo assume in realtà l'immagine di un altro tipo di figura femminile minacciosa che è quella della seduttrice Circe invita Odisseo a simposio quindi lo invita a bere con lei crea diciamo una situazione con un'atmosfera diciamo seduttiva e si offre anzi lo invita a venire a letto con lei in quella che è diciamo così un gesto anche in questo caso assolutamente anomalo per una donna perché diciamo i canoni della seduzione diciamo le regole della seduzione nel mondo greco volevano che fosse sempre l'uomo a farsi avanti e l'uomo anzi a proporre a volte anche con aggressività l'atto d'amore mai si vede la figura di una donna che si offre così spontaneamente e soprattutto non una figura di donna diciamo rispettabile tra virgolette ecco di certo non quelle figure di donne che si voleva come madri di famiglia ecco Circe incarna potremmo dire quel tipo di amore seduttivo minaccioso che era attribuito a quelle figure ad esempio di cortigiane quindi donne ai margini che vivevano diciamo così in una situazione borderline all'interno della società così come Circe vive agli estremi del mondo civilizzato in una condizione di isolamento e che quindi come tali non rispettavano quelle che erano le regole diciamo del comportamento normalmente attribuito alle donne e quindi concludiamo adesso qua leggendo questa scena dell'accoglienza di Circe a Odisseo accoglienza che poi appunto si trasforma in un atto d'amore e che trasforma anche Circe da figura pericolosa e minacciosa invece in una amante e anche aiutante di Odisseo perché anche lei agevolerà il suo il suo viaggio Ermete quindi se ne tornò all'Alto Olimpo per l'isola folta e io alla casa di Circe andavo e molto il mio cuore nell'andare batteva mi fermai sulla porta della dea belle trecce e la fermo gridai la dea sentì la mia voce subito uscita fuori aperse le porte splendenti e mi invitava e io la seguì sconvolto nel cuore mi condusse a sedere su un trono a borchie d'argento bello cornato e sotto c'era lo sgabello per i piedi fece il miscuglio per me in tazza d'oro perché bevessi e il veleno vi infuse mali meditando nel cuore ma come me ma come me l'ebbe dato e bevi e non potè farmi incantesimo con la bacchetta colpendomi parlava parola diceva va ora al porcile stenditi con gli altri compagni così diceva e io la spada acuta dalla coscia sguainando su circe balzai come deciso ad ucciderla lei gettò un urlo acuto mi corse ai piedi e mi afferrò le ginocchia e si inghiozzando parole fugaci diceva chi e donde sei fra gli uomini dove la tua città e i genitori stupore mi prende perché bevuto il veleno non hai subito incantesimo nessuno nessun altro uomo potesse portare il veleno chiunque lo beve appena passata la siepe dei denti ma forse nel petto hai in mente refrattari agli incanti oppure tu sei odisseo l'accorto che doveva venire come mi prediceva sempre l'ergeifonte aurea verga tornando da troia con l'agile nave nera ma via nel fodero la spada riponi e non ora ora sul letto mio saliremo che uniti di letto ed amore possiamo fidarci a vicenda così parlava ma io ricambiandola dissi o circe come mi inviti a esserti amico tu che porci mai fatto nel tuo palazzo i compagni e me ora qui avendo con l'inganno madeschi a entrare nel talamo a salire il tuo letto per farmi poi così nudo vile e impotente non vorrò certo salire il tuo letto se non hai cuore odea di girarmi il gran giuramento che nessun sortilegio trami ancora a mio danno così dicevo e lei subito giurò come vogli e quando ebbe giurato compiuta la formula allora solo di circe salì il letto bellissimo grazie ecco ecco e quindi questa unione tra circe e odisseo si suggella così con odisseo che all'inizio non si fida quindi di questa intraprendenza sessuale di didone che lo invita così spudoratamente ad andare a letto con lui ecco all'inizio odisseo è naturalmente così un po' refrattario perché è sorpreso diciamo da un'offerta di questo genere tanto più che viene da una dea e ha paura quindi che questa offerta possa risolversi in una minaccia per lui quindi la costringe a un giuramento di non fargli del male a non renderlo impotente questo è il timore di odisseo qualora dovesse unirsi a lei e una volta che circe ha giurato ecco finalmente la loro unione si può compiere e da qua appunto si suggella quella che è un'alleanza tra i due che sarà proficua per odisseo perché circe anche in questo caso in realtà sarà uno strumento diciamo che gli consente di proseguire il suo viaggio ecco quindi con quella quell'idea di amore come espediente narrativo che in qualche modo condiziona le gesta e le imprese di odisseo quindi vi ringrazio con questo e alla prossima occasione grazie 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 veramente splendido proprio sei sempre piena impegni grazie 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 grazie